E' l'era dei cantanti, l'epoca d'oro delle tonsille di bronzo. Giovani zazzeruti e ragazze impegnate e autentiche intellettuali della canzonetta tengono banco nei jukebox per due o tre stagioni, poi spariscono, ingoiati dalla mediocrità dalla quale erano improvvisamente usciti. Qualcuno o qualcuna ritorna alla ribalta della notorietà grazie a un indovinato lancio pubblicitario o a una fortunata combinazione. Mina, per esempio, è tornata a successo proprio quando la sua stella sembrava fosse definitivamente tramontata. Che effetto le fa Mina essere tornata sulla cresta dell'onda quando tutti l'avevano dimenticata? Io lo chiedo a voi. Che effetto vi fa a rivedermi? Rivederla ci fa piacere, risentirla. Beh, quali cantanti preferisce? Beh, il solito, meraviglioso, eterno Sinatra e poi Mel Tormé, Saravon, Ella Fitzgerald, eccetera. Niente, Milva, quindi. Se una fatta si impegnasse a realizzare un suo desiderio, che cosa chiederebbe? Dei desideri moltissimi, ma purtroppo non credo alle fate. Se ci credesse, vorrebbe che Sinatra affermasse che la sua cantante preferita è la solita, meravigliosa, eterna Mina. Grazie.